Marco Di Capua è il nuovo sindaco di Chiavari, eletto con il 53,42% dei voti contro il 46,58% di Roberto Levaggi. Approvato il piano annuale e triennale delle opere pubbliche di Rappallo per il 2018, previsti interventi per 8 milioni e 610 mila euro. Al via la trentesima edizione del Teatro Dialettale a Chiavari, 13 spettacoli con omaggi a vari protagonisti. Per il 57esimo anno è stata festeggiata la festa delle migranti a Favale di Malvaro. Il premio Radici è assegnato a Luigi De Benedetti, 92enne. Trasporto pubblico, in arrivo nuovi mezzi per ATP e a breve la sperimentazione dell'autista di Vallata. Approvato il bilancio consuntivo 2016 che chiude in pareggio. Il nuovo sindaco di Chiavari ha presentato ufficialmente la sua squadra, confermata Silvia Stanig, vice sindaco, con delega alla cultura. Assessori, maggio, ratto, bisso e corticelli. A poco più di un mese dalla visita di Papa Francesco a Genova ha pubblicato un libro fotografico che ripercorre la storica giornata. Primo incontro tra il commissario di Lavagna e alcuni cittadini che da tempo denunciano il degrado della città attraverso i social network, chiesta una presenza più attiva per il ripristino del decoro urbano. Un funzionario della Commissione Europea è in visita al villaggio del Ragazzo, Stefano Kummer, ha potuto toccare con mano i progetti realizzati grazie alle risorse del Fondo Sociale. Si espande l'infestazione di processionaria sul monte di Portofino. L'ente parco consiglia ad escursionisti e abitanti di non intervenire direttamente. Il futuro del polo ospedaliero al centro della discussione politica sestrelevante e scambio di accuse tra maggioranza e minoranza. Donati al comune di Chiavari due dispositivi sonori per consentire ai non vedenti di attraversare la strada, i fondi raccolti dai Lions con il concerto al buio. La vicenda del piccolo Charlie continua a commuovere il mondo. Appello di Papa Francesco su Twitter, difendere la vita soprattutto se è ferita da malattia. Buongiorno e ben trovati all'appuntamento con il Tg guardando la settimana, la nostra rassegna dei principali fatti accaduti nel Tiguglio negli ultimi sette giorni. Iniziamo dalla politica amministrativa, da Chiavari perché la città ha un nuovo sindaco, si tratta di Marco Di Capua, eletto con il 53,42% dei voti. La cronaca del ballottaggio nei prossimi servizi con l'ipotetica composizione del Consiglio Comunale. Vediamo. La festa al point di Marco Di Capua in corso Garivaldi si fa più evidente passata la mezzanotte quando i dati dei seggi, anche se non definitivi, lasciavano presagire una vittoria netta e ormai non più in discussione. È un lungo applauso poi ad accogliere l'arrivo di quello che da lì a poche ore sarebbe diventato il nuovo primo cittadino di Chiavari, subito assalito dai microfoni dei cronisti sia nell'immediato che nella successiva conferenza stampa. La dedico alla mia famiglia, a mia moglie che ha fatto tanti sacrifici, a mio papà che è qua presente, a mia mamma che non c'è più e che sarebbe orgogliosa di suo figlio. Tutti i miei pari, la mia famiglia soprattutto. La festa per i vincitori è proseguita poi con la camminata verso il Palazzo del Comune, attraversando il Carrugio e continuando i festeggiamenti in Piazza Nostra Signora dell'Orto con tanto di spumante stappato. Altro clima invece nel point elettorale degli sconfitti, un clima dimesso con il sindaco uscente Roberto Levaggi che a caldo ha provato ad analizzare il risultato elettorale. Più che raccolta differenziata, che poi è una cosa che devono fare tutte le città, al di là del metodo che può essere in un modo o in un altro, anche perché gli obiettivi devi raggiungerli. Io penso che abbia influito molto la questione preli, che non è colpa nostra, e la questione depuratore che comunque da qualche parte poi andrà fatto. Quindi sarà una scelta che adesso dovranno prendere, anche perché senza impianti di depurazione ci sono le sanzioni europee. Quindi io ritengo che siano queste cose, però più che queste cose specifiche ritengo che sia stata l'unità tra di loro, di forze diverse che si sono aggregate contro di noi. Ci metteremo a lavorare seriamente, io mi auguro che siano in grado di fare altrettanto, questo lo dico per la città, perché attualmente per ora hanno solo parlato, quindi bisogna che io li voglio vedere al lavoro. Io ero lì in prima persona tutte le mattine, voglio vedere cosa faranno, io aspetterò e chiaramente farò una posizione critica, perché credo che sia giusto così, e costruttiva se sarà il caso. Quindi non come hanno fatto loro che criticavano ogni cosa, ma sui punti giusti sarò il primo ad ammettere che fanno bene, ma sarò durissimo dove sbaglieranno, perché loro l'hanno fatto per cinque anni ed è giusto che sia così. Non è bastato al sindaco uscente Roberto Levaggi mantenere e addirittura aumentare di quasi 400 voti il blocco di preferenze che lo aveva visto in testa al primo turno. Marco Di Capua, grazie all'apparentamento ufficiale con Giovanni Giardini e l'intesa programmatica con partecipativa di Giorgio Canepa, è riuscito a staccare di oltre 2000 voti lo sfidante. Non a caso quasi la somma dei voti che i due nuovi sostenitori avevano raccolto complessivamente al primo turno e a giudicarsi così la corsa a Palazzo Bianco con il 53,42% dei voti contro il 46,58% dello sfidante. Bassa comunque l'affluenza alle urne che per il ballottaggio si è fermata al 48,39%, sei punti in meno rispetto alla già scarsa affluenza del primo turno. Si attende ora la riunione del primo consiglio comunale che di Capua convocherà entro 15 giorni a farne parte, oltre allo stesso primo cittadino, i dieci consiglieri della sua maggioranza che sono Alberto Corticelli, Davide Cesaretti, Federico Messuti, Luca Ghigeri e Alice Galli per la lista civica di Capua Sindaco, Gianluca Ratto, Antonio Segalerba e Paolo Garibaldi per la lista Avanti Chiavari e Fiammetta Maggio per la lista civica maestrale. Oltre a questi si aggiungerà anche Giovanni Giardini della lista Cambia con me che entra in consiglio comunale grazie proprio all'apparentamento ufficiale siglato con il nuovo primo cittadino in occasione del ballottaggio. Il sindaco quasi sicuramente potrà contare anche sull'appoggio di Giorgio Canepa di partecipativa che entra in consiglio in qualità di candidato sindaco escluso dal ballottaggio al primo turno e quindi tecnicamente in minoranza ma forte di un accordo siglato con Di Capua. I restanti cinque consiglieri che andranno a completare il nuovo consiglio comunale sono Roberto Levaggi, Silvia Garibaldi e Daniela Colombo per la lista Noi di Chiavari, Sandro Garibaldi per la lista Chiavari al centro e Lino Cama per quella PD, la città di tutti. Una composizione che sicuramente cambierà alla luce delle nomine degli assessori della giunta che se scelti tra i consiglieri in carica decadranno da questa carica lasciando il posto ai secondi più votati nelle rispettive liste. Ancora la politica amministrativa nella giornata di martedì, il consiglio comunale di Rapallo ha approvato e deliberato il piano delle opere pubbliche sia annuale che triennale. Per il 2018 sono previsti interventi per 8 milioni e 610 mila euro. A Chiavari sta per ritornare la rassegna di teatro dialettale dedicata a Deglio Rossi giunta quest'anno alla trentesima edizione. Vediamo i servizi. 500 mila euro per piazza Molfino davanti alla stazione ferroviaria, 632 mila per la passeggiata Mare e via Venaggi, 500 mila per le frazioni, 550 per le asfaltature, 632 mila euro per la pavimentazione del centro storico. E ancora risorse per la manutenzione straordinaria dei parchi, per il campo Macera, per quello del Poggiolino, interventi alla tetto del palazzo comunale e a Villa Queirolo al parcheggio di via Laggiaro. Sono alcune delle voci di spesa del piano annuale delle opere pubbliche approvato dal consiglio comunale di Rapallo. Quella più significativa riguarda il primo stralcio per la nuova copertura del torrente San Francesco, per il quale sono stati messi a disposizione 2 milioni e 350 mila euro, un intervento che entrerà nel vivo in autunno. Il cantiere comincerà verso ottobre, novembre, appena finita praticamente l'estate e avrà un periodo di lavorazione di circa un anno. Interventi, c'è anche uno relativo all'edilizia scolastica e sociale, c'è attenzione anche per l'amministrazione su questo punto? Sì, abbiamo lavorato tanto perché sempre in questa manovra c'era un'apertura per quanto riguardava la messa in sicurezza degli edifici pubblici, soprattutto delle scuole. Quali saranno gli edifici interessati da questa ristrutturazione? Le Antola, un progetto molto importante su un ampliamento delle Antola e praticamente a macchia di Leopardo andremo a toccare tutte le scuole di Rapallo. Tra gli interventi previsti sono stati annunciati anche quelli al Parco Pubblico di San Pietro di Novella, per i quali saranno a disposizione circa 56 mila euro, ovvero la somma risparmiata in circa tre mesi dal Comune di Rapallo, grazie all'installazione della nuova illuminazione pubblica a LED. Il piano annuale delle opere pubbliche ammonta complessivamente a 8 milioni e 610 mila euro, risorse significative che l'amministrazione comunale può utilizzare grazie allo sblocco del patto di stabilità. È stata dovuta a una buona politica fiscale dell'assessore dottoressa Alessandra Ferrara. Siamo riusciti tutti insieme a sbloccare e a usufruire delle risorse degli avanzi di bilancio delle amministrazioni precedenti. In Italia siamo il quinto Comune d'Italia su 8.347 comuni e in Liguria siamo il primo Comune. Quanto era affezionato suo papà a questa rassegna? Papà era affezionatissimo, anzi fondamentalmente è stato lui il creatore, i primi semi li ha buttati giù lui. Papà proprio veramente ci teneva molto, soprattutto perché era legato tanto al castello, è stato parecchio tempo governatore e aveva pensato giustamente di ritrovare un pochettino queste radici proprio nella commedia popolare. La rassegna di teatro in dialetto Elio Rossi compie 30 anni, come festeggerete questo traguardo? Ebbene intanto lo festeggiamo che manteniamo il cartellone con 13 spettacoli, cominciamo venerdì 7 luglio e il calendario ora lo distribuiamo è abbastanza, nel senso che è martedì, venerdì, questo per quanto riguarda luglio. Poi ci sarà anche l'ultima domenica di luglio e poi ancora agosto, verrà poi ricordato durante la rassegna anche Giovanni Carosini con una sua commedia, ricorderemo Maria Viezzi che è stata anche quella con una commedia e anche Vito Elio Petrucci. Qual è il valore di una rassegna come quella che si sta organizzando a Chiavere che è giunta alla trentesima edizione? E' importantissimo, intanto diciamo che e per qualità e per quantità è l'unica in Liguria, ecco la primissima in Liguria, potrebbe essere che in qualche paesino se ne sia un altro però non mi risulta e quest'anno abbiamo un fatto veramente nuovo, c'è solo una goviana. Il dialetto non tramonta mai? Ma per l'amore del signore, non può tramontare, che ne resta magari in sci grebani, ma qua credo in cui parla se ne è, se ne è, se ne è l'Igure, che se ne è sempre senza. Edizione numero 57 a Favale di Malvaro per la festa dell'emigrante che si è svolta nel fine settimana nel comune dell'Alta Val Fontana Buona. Il premio Radici quest'anno è stato assegnato a Luigi De Benedetti, 92enne, emigrato con i genitori in Peru all'età di 8 mesi. Vediamo. Le migrazioni di famiglie della Fontana Buona nelle lontane Americhe hanno rappresentato per lungo tempo una risorsa per i paesi. Chi trovava lavoro all'estero poteva contribuire ai bisogni dei familiari rimasti in vallata. Con queste ragioni, 57 anni fa, è stata organizzata la prima festa dell'emigrante. Questa qua è nata come festa del ringraziamento, proprio per ringraziare chi era emigrato e si ricordava dei parenti e delle istituzioni e mandava soldi. Nel 2017 un particolare ricordo è stato per Giacomo Dario Casassa, il sindaco di Favale di Malvaro, che avviò per primo questa ricorrenza. Pensò di fare partita come un pranzo, ecco un giorno, ha fatto un pranzo con tutti gli emigranti che erano qui il giorno di San Pietro e Paolo. E da lì siamo andati avanti. Nel corso della cerimonia è stato assegnato il premio Radici a Luigi De Benedetti, 92enne, partito alla volta del Peru con i suoi genitori all'età di 8 mesi. Un riconoscimento dal forte significato affettivo. L'importanza è che io sono nato qua, 92 anni sono, e anche i miei genitori tutti, i miei padri, la madre, tutti. Io sono orgoglioso di quello, per quello che sempre che vengo in Italia vengo qua a Favale. E che i genitori avevano i negozi e allora il mio padre ha continuato lì, perché mio padre era cugino di Cordano e io sono De Benedetti Cordano. Allora abbiamo continuato lì, io ho fatto l'ingegnere, però dopo un tempo sono andato a aiutare anche là. Parliamo adesso di trasporto pubblico, è stato approvato il bilancio consultivo 2016 per l'ATP, l'azienda trasporti provinciali, ma è stato anche delineato quali saranno gli interventi per i prossimi anni per consentire comunque un pareggio di bilancio. Parleremo di questo, ma anche della politica amministrativa di Chiavari con il neosindaco che ha formato la sua giunta, vedremo chi sono gli assessori. E poi, a poco più di un mese dall'arrivo della visita a Genova di Papa Francesco, un libro fotografico realizzato dalla redazione del Cittadino nel ripercorre la giornata intensa vissuta nel capoluogo Ligo. Rivediamo i servizi. Il bilancio 2016 si è chiuso con un utile di 40.581 euro al netto delle tasse, dalla parte dei ricavi 33 milioni e 600 mila euro e dalla parte dei costi poco meno. Siamo in riduzione dei ricavi e in riduzione dei costi, ma anche per il futuro abbiamo premesso nel 2017, 2018 e 2019 la possibilità attraverso il contenimento dei costi di controbilanciare efficacemente la riduzione dei trasferimenti pubblici e quindi riuscire a chiudere i bilanci in equilibrio. Uno dei capitoli riguarda i nuovi mezzi, 25 ne sono già arrivati nel corso di questi ultimi mesi ma l'azienda ha intenzione di acquistarne altri 88 in tutto. Sì, infatti fra le misure che ci consentiranno e sono previste dal piano di contenere i costi relativi alla manutenzione al personale utilizzato per la manutenzione per intervenire sui mezzi che si guastano ovviamente ci sono gli investimenti e nuovi mezzi che ci consulteranno di rinnovare il parco per un numero di 88 mezzi attualmente i mezzi sono 280, compreremo 68 mezzi con i finanziamenti che ci sono stati concessi dagli ingredienti sovraordinati, di questi 68-25 sono già arrivati e altri 20 mezzi invece li compreremo in autofinanziamento. Un altro punto è il potenziamento della rete di servizio, c'è alla discussione un progetto che interessa le vallate, di che cosa si tratta? Sì, stiamo cercando di immaginare una revisione della rete che ci consenta anche di migliorare il servizio nelle vallate più disagiate del nostro territorio e quindi ci siamo immaginati di trovare ad iniziare una sperimentazione al termine di questo anno che noi abbiamo denominato autista di vallata. In sostanza vorremmo sperimentare un servizio a chiamata specifico per alcuni territori particolarmente evocati a questo tipo di servizio. A 48 ore dall'insediamento Marco Di Capo ha presentato alla città la sua squadra tra conferme e sorprese distribuite le deleghe ai cinque assessori, la cultura al vice sindaco Silvia Stanig, affiammetta maggio istruzione, servizi sociali e famiglia Gianluca Ratto si occuperà di commercio, sport e turismo, Giuseppe Corticelli assessore alla sanità Massimiliano Bisso ha i lavori pubblici e ambiente e nettezza urbana. Io mi sono mantenuto tutto quanto non ho delegato, vale a dire il bilancio, le finanze, i tributi, l'economato, i trasporti, l'urbanistica, l'edilizia pubblica, privata e il porto perché l'ho voluto sganciare dalla delega Aldemagno in quanto ho una grossa attenzione al porto turistico, al suo rilancio, al mantenimento in mano pubblica. Il sindaco ha voluto dare un incarico anche a tutti i consiglieri. A Federico Messuti gli affari legali, arredo urbano e raccolta differenziata a Luca Ghiggeri, le manifestazioni sportive a David Cesaretti. Claudia Brignole si occuperà dei quartieri, Paolo Garibaldi del ciclo delle acque, Alice Galli degli eventi per i giovani. E poi il verde urbano e lo sviluppo di Palazzo Rocca Stefano Trocar, il potenziamento del distretto socio-sanitario e il mantenimento di RSA e hospice ad Alberto Corticelli. Infine Antonio Segalerba sarà proposto come presidente del Consiglio, Giorgio Canepa all'incarico allo sviluppo delle piste ciclabili e il contratto di fiume, Giovanni Giardini affiancherà il sindaco nelle scelte sull'urbanistica e sull'edilizia senza avere però un incarico preciso. Il sindaco è pronto a partire sul tavolo la rivisitazione del sistema dei parcheggi. Iniziare a gestire e a studiare i bandi per la gestione dei parcheggi pubblici perché sono in scadenza da gennaio 2018 affinché io possa garantire il frazionamento, tariffe agevolate ai residenti e che i disabili possano parcheggiare gratuitamente nelle zone blu. Francesco a Genova un grande abbraccio, qual è il contenuto di questo libro? Il libro è essenzialmente un libro fotografico ma abbiamo scelto di riportare anche per testimoniare la giornata tutti i discorsi che sono stati pronunciati dal Papa, dal Cardinale, poi ci sono delle piccole introduzioni a tutte le tappe della visita di Francesco di Cronaca. Abbiamo scelto però di anteporre anche una parte di preparazione perché il 27 maggio è stato anche un evento che è stato organizzato molto prima. Quante sono le foto contenute? Sono circa 300 foto, sono state realizzate dalla redazione del Cittadino e da un gruppo di volontari che noi siamo riusciti a trovare per questa occasione. Dove si può trovare questo volume? Il volume è disponibile presso la redazione del Cittadino a Genova in Via Serra tutti i giorni, da lunedì al venerdì tutto il giorno. È stato allestito per l'occasione anche un infopoint nel Palazzo della Regione in Piazza dei Ferrari che è aperto fino a sabato 1 luglio e da lunedì sarà disponibile anche presso la Libreria San Paolo a Genova in Piazza Matteotti. Queste fotografie non sono soltanto la testimonianza di un evento che è accaduto ma di un evento che si rinnova tutti i giorni. Sì, infatti abbiamo voluto imprimere su questo libro i volti, le emozioni, i discorsi del Santo Padre, dell'Arcivescovo, Cardinale Angelo Bagnasco, ma abbiamo voluto imprimere così in qualche modo nella memoria della nostra città, della gente genovese, quello che è accaduto perché si trasformi in un grande dono spirituale. Ciò che è avvenuto non è soltanto stato un evento ben organizzato, pensiamo, ma un evento di grazia. A Lavagna c'è stato un primo incontro tra un gruppo di cittadini attivo sui social network per denunciare il degrado della città con il commissario straordinario. Vediamo com'è andata questo incontro, parleremo poi anche della visita che un funzionario della Commissione Europea, Stefano Cumer, ha effettuato al villaggio del ragazzo, al centro Benedetto da Corona, al centro di San Salvatore, testimonianza di come sono stati utilizzati proficuamente i fondi, i fondi delle risorse del Fondo Sociale Europeo. Parleremo poi anche del problema della processionaria nel parco di Portofino. Vediamo i prossimi servizi. Un incontro molto atteso, chiesto a più riprese e finalmente ottenuto, ma che alla fine non ha soddisfatto appieno le aspettative dei molti cittadini presenti, anche se può essere preso come punto di partenza di una collaborazione che dovrà trovare concretezza nel tempo. Quello tra il commissario prefettizio di Lavagna, il dottor Paolo Dattiglio e alcuni rappresentanti del gruppo Facebook dei Mugugni, questa mattina al secondo piano di Palazzo Franzoni, è stato un incontro che può essere eletto sotto diversi punti di vista. Il commissario è stato abbastanza spigoloso e capisco anche che abbia vissuto forse questo incontro come quasi un'invasione pacifica, però poi è chiaro che in questi incontri ognuno dice la sua, parla del suo bidone, del suo quartiere, che comunque sono problemi di lavagna tutta. Io voglio, come ci siamo detti in uscita, invece pensare di aver avviato un dialogo e sicuramente chiederemo un altro incontro e stavolta arriveremo non solo con i Mugugni ma anche con delle proposte. Uno dei temi toccati durante l'incontro è stato il decoro urbano, con la situazione di sporcizia e poca cura di alcune zone della città di Lavagna e dei suoi quartieri periferici. I problemi che c'erano prima e ce n'erano, non è che non ce ne fossero, però ora sono aumentati a vista d'occhio. Non si può più proprio vivere, ecco, perché passi davanti a dei posti che ti devi tappare il naso per dieci minuti perché è una puzza che si muore. Quindi questo naturalmente attira topi, attira qualunque bestia. In comune mancano anche poi delle prese di responsabilità, cioè si è rimbalzati da un ufficiale. Infatti, infatti, perché prima appunto c'era un collegamento, c'era un modo da andare a riferire, invece ora non tocca a noi, ma tocca a quello, tocca a quell'altro e quindi non si sa più a chi rivolgersi. Ci sono stati alcuni scambi di opinione, diverse naturalmente, alcune cose già gli erano state segnalate, altre, come dire, ci ha ringraziato per avergliele riferite. Speriamo di aver gettato un piccolo seme per una coordinazione, una collaborazione sempre più proficua con l'andare del tempo. Un momento di conoscenza, ma soprattutto l'occasione di far vedere da vicino a chi vive l'Europa le esperienze e i progetti che si riescono a sviluppare grazie al contributo di risorse del Fondo Sociale Europeo. Con la visita al centro Benedetto Acquarone e a quello di San Salvatore di Cogorno, Stefano Kummer, funzionario della Commissione Europea nell'area Direzione Generale Occupazione, ha potuto vedere e toccare con mano in prima persona il lavoro di cura delle persone, siano esse disabili o giovani in via di formazione, che le due realtà portano avanti ogni giorno. Ho sentito più volte ripetere il termine mettere la persona al centro delle attenzioni. Ho visto una grande passione sia nella presentazione da parte dei direttori, ma anche degli operatori, dei formatori, per quanto riguarda il loro lavoro, per quanto riguarda il loro contributo che viene dato nel loro appunto apporto quotidiano nell'ambito di questi due centri. Io ho visto nel centro Acquarone un centro di eccellenza per quanto riguarda l'aspetto sociale e nel centro San Salvatore un'eccellenza per quanto riguarda l'aspetto formativo ed educativo. Per i responsabili dell'opera diocesana Madonnina dei Bambini, la visita ha significato un reale riconoscimento dell'importanza del lavoro svolto e uno sprone nel continuare nella direzione tracciata anni fa dal suo fondatore Don Nando Negri. Ha visto come alcune dei pilastri del Fondo Sociale Europeo, come l'integrazione, l'inclusione, siano davvero realtà e come Don Nando molto tempo fa, 70 anni fa, aveva già anticipato con le sue opere. Quindi credo che sia stata una bella testimonianza di come oggi la normativa europea si è sposata perfettamente con le idee illuminate del Don che ha pensato tutta la realtà del villaggio come uno spazio di inclusione, di integrazione e che ha sempre lavorato per l'occupazione dei giovani e perché loro potessero trovare una realizzazione di vita attraverso il lavoro. La processionaria della Quercia infesta al monte di Portofino. I primi nidi erano stati trovati un anno fa ma oggi la presenza dei bruchi è decisamente più numerosa. Tutti conoscono la processionaria del Pino, però la processionaria della Quercia che è la tometopea processionea è più subdola di quella del Pino. Costruisce i nidi non in alto come quella del Pino ma in basso, quindi sono a livello dei bambini, a livello degli animali. Non si sposta di giorno come la processionaria del Pino che fa queste lunghe processioni di bruchi ma si sposta di notte. Se noi tocchiamo un nido di processionario al tronco dove sono passati i bruchi, i sintomi dolorosi si manifestano dopo qualche minuto. I primi nidi sono stati individuati sui tronchi di grandi esemplari di rovere cresciuti in due siti lungo il percorso che da San Rocco di Camogli sale a Portofino Vetta. Di qui è iniziata una mappatura dell'infestazione. I nidi rinvenuti nelle zone di maggiore passaggio sono stati distrutti ma l'ente parco di Portofino con le sue risorse non può censirli e distruggerli tutti quanti. Il consiglio è quello di non intervenire e di segnalare il nido individuato. Questo ci permette una mappatura delle zone più infestate e poi speriamo l'anno prossimo di poter intervenire per tempo con una disinfestazione. Il consiglio è quello di segnalarli però di lasciarli sul posto per evitare comunque brutte sorprese. L'ente parco ha comunque pulito e preparato la piazzetta che si trova lungo il percorso San Rocco-Portofino Vetta ma consiglia di prestare lo stesso grande attenzione. Siamo intervenuti nella località Sacro Cuore che è una località dove c'è un altarino che rimane a mezz'ora di tempo da San Rocco e proprio lì sotto quelle querce ci sono stati dei casi di parecchi nidi che in modo un po' artigianale attrezzandoci siamo riusciti a togliere. Proprio in quella zona tutti gli anni la prima domenica di luglio, quest'anno il 2 di luglio c'è la Santa Messa alle ore 9 e poi dopo un piccolo rinfresco con prodotti locali. Chiaramente intervengono persone anziani, intervengono bambini quindi quest'anno almeno quella zona lì è stata messa in sicurezza. Siamo così arrivati alla giornata di sabato, due in particolare temi affrontati, quello del polo ospedaliero di Sestilevante, il futuro dell'ospedale al centro di una mozione discussa in Consiglio Comunale. E poi a Chiavari sono stati donati al comune due dispositivi sonori per consentire ai non vedenti di attraversare in sicurezza la strada e il frutto dell'iniziativa del concerto al buio organizzato dai Lions Club. Vediamo. Tiene banco a Sestri Levante il dibattito politico in merito al presente e al futuro del polo ospedaliero del Tiguglio orientale. Nei giorni scorsi, con una lettera inviata al vicepresidente della Giunta regionale Sonia Viale e alla direttrice della ASD 4 Chiavarese Bruna Rebagliati, il sindaco Valentina Ghio ha chiesto di conoscere le intenzioni di azienda sanitaria e regione in merito alla struttura di Via Terzi. Dopo mesi non sono state ancora messe in atto iniziative per l'utilizzo efficiente degli spazi e manca ancora un piano di riorganizzazione del polo ospedaliero, si legge nella lettera del sindaco. Tutto ciò rafforza le mie preoccupazioni sul futuro dell'offerta sanitaria del comprensorio e la mancanza di una direttrice chiara, con la sensazione che servizi qualificati e professionalità presenti nel polo ospedaliero non vengano valorizzate e sostenute come dovrebbero. La preoccupazione espressa dal sindaco è quella di un sottoutilizzo degli spazi a disposizione. Nella visita effettuata lo scorso 16 giugno, si è potuto constatare come il sesto piano dell'edificio, che fino a due anni fa ospitava i reparti di pneumologia e medicina, oggi risulti completamente inutilizzato, ridotto a deposito di letti, barelle e altro materiale in dismissione. Un'intera ala ferma senza una destinazione, ha denunciato la GIO che ha chiesto nuovamente un confronto con la regione per conoscere il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera di tutta l'ASL. Richiesta questa, insieme al mantenimento nella sua interezza del servizio di radiologia, inserita in un ordine del giorno, votato dalla sola maggioranza nel corso dell'ultimo consiglio comunale e inviato alla direzione generale dell'ASL4, al direttore generale di Elisa e ai sindaci dei comuni del distretto sociosanitario numero 16. Documento non votato dalla minoranza, che a parte del Movimento 5 Stelle, è uscita dall'aula puntando il dito contro la strumentalità della mozione. I due piani vuoti dell'ospedale sono un'eredità della precedente amministrazione regionale di ASL4 che hanno avuto le chiavi in mano della sanità per ben 10 anni, ha spiegato il consigliere Marco Conti. Vogliamo dare il tempo alla direzione di portare in approvazione il piano di riorganizzazione e successivamente potremo fare delle valutazioni. Quando si tratta di difendere il territorio, la destra locale dimostra tutta la sua inadeguatezza e la cieca obbedienza ai diktat della regione, anche quando rischiano di penalizzare i cittadini e gli utenti di Sestilevante. La controreplica dei gruppi consigliari di maggioranza di Sestilevante ha la decisione della minoranza di uscire dall'aula al momento del voto. Come si possono descrivere questi due dispositivi acustici? Si possono descrivere come un grande aiuto, il primo grande aiuto effettivo che viene installato nella città di Chiavari. Si parla tanto di abbattimento di barriere, di accessibilità e finalmente è stato fatto un intervento molto importante che permetterà alle persone che non vedono di poter attraversare la strada almeno in due zone di Chiavari in totale sicurezza. E questo è un grande passo in avanti, volta una città accessibile, volta una città che accetta tutti e che considera le persone con un handicap una presenza nel territorio. Come funzioneranno? Saranno molto semplici, poco invasivi, disturberanno molto poco, basterà schiacciare un pulsante e il non vedente potrà avere un segnale acustico al suono, alla comparsa del verde e di conseguenza sarà in grado di poter attraversare senza alcun rischio. Dove avete deciso di installare questi due dispositivi acustici? Dunque, abbiamo deciso di installarli in due punti critici molto importanti per Chiavari. Uno è alla fine di Corso Garibaldi, all'incrocio per andare verso il mare lato stazione, quindi comodo anche per chi arriva in treno. L'altro in Corso Millo dal parco all'incrocio con Corso Genova. Quanto sono costati i due dispositivi acustici e come avete coperto la spesa? Sono costati meno di 1000 euro. Questo potrebbe essere di forte stimolo anche per l'amministrazione di stanziare pochi danari per poter proseguire in questa installazione. In città ci sono altri incroci pericolosi? Sicuramente sì, perché credetemi, noi abbiamo parlato a lungo con Niccolò Pagliettini, Presidente dell'Unione Italiana Cechi, che ci ha descritto e ci ha fatto percepire quale pericolosità è attraversare un semaforo. Provate a chiudere gli occhi, avvicinarvi ad un semaforo e sentire i rumori che percepite. Siamo così arrivati al termine di questa edizione del TG Guardando la settimana. Vi lasciamo adesso al nostro approfondimento dedicato alla difficile vicenda di Charlie, il bimbo inglese affetto da una grave malattia e che i giudici inglesi e la Commissione e la Corte Europea ha deciso di non far continuare a vivere e staccare quindi le macchine. C'è stato anche l'appello di Papa Francesco, la forte presa di posizione di Papa Francesco a difendere la vita soprattutto se ferita da malattia. Vediamo il servizio di Radio Vaticana, il TG Guardando la settimana torna invece fra sette giorni. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata. Milioni di persone in tutto il mondo pregano per il piccolo Charlie perché gli sia data l'ultima speranza. Una gara di solidarietà internazionale ha permesso ai genitori di raccogliere un milione e mezzo di euro per portare il bimbo negli Stati Uniti e sottoporlo a una terapia sperimentale. Per i medici inglesi sarebbe solo un accanimento terapeutico che allungherebbe le sofferenze di Charlie colpito da una malattia rara che indebolisce progressivamente muscoli e nervi. Ma un genitore non smette di credere anche se c'è una remota possibilità di salvezza. Anche la Corte Europea dei Diritti Umani ha detto di no all'ultima speranza. I genitori allora hanno chiesto di far morire il piccolo a casa ma anche questo è stato negato. Papa Francesco ieri sera con un tweet a sorpresa ha scritto Difendere la vita umana, soprattutto quando è ferita dalla malattia, è un impegno d'amore che Dio affida ad ogni uomo. In tanti sono costernati dal fatto che non si rispetti la libertà di scelta dei genitori. Ascoltiamo il professor Francesco Belletti, presidente del Centro Studi Famiglia, al microfono di Fabio Colagrande. È terribile perché noi accettiamo un intervento dello Stato sui bambini, sui figli dei genitori quando i genitori sono incompetenti, quando rifiutano la cura, quando maltrattano. Allora tutti noi ci aspettiamo che lo Stato intervenga a favore del bambino. Ma quando il bambino è super protetto dei genitori, quando i genitori fanno di tutto, hanno fatto una raccolta fondi, avevano recuperato anche i soldi per poter fare questo viaggio della speranza in America, e lo Stato decide al posto dei genitori che la loro titolarità non c'è più. Questo è un dato devastante che potrebbe essere applicato in qualunque circostanza, per esempio su scelte educative di qualunque genere. Quindi è molto preoccupante questa invasività arrogante dello Stato al posto dei genitori. Ricordo che in tutte le dichiarazioni dei diritti dell'uomo e del fanciullo, i genitori hanno la piena e inviolabile titolarità, la responsabilità. Qui i due genitori hanno fatto di tutto per il loro figlio e lo Stato gli propone una cultura della morte. Quindi questo è assolutamente intollerabile. E questa è la disumanità di questa sentenza che costringe alla morte due genitori che cercavano la cura e la vita. Grazie per la visione!